Amici, buongiorno e benvenuti alla seconda di queste lezioni introduttive sull'Ascesa di Roma. Nella scorsa lezione abbiamo visto la storia di Roma dagli albori alla conquista dell'Italia peninsulare, fino allo stretto di Messina. Di fronte a Reggio, conquistata dai Romani nel 270, sul lato opposto dello stretto, è presente con le sue forze armate, Cartagine e la grande potenza del Mediterraneo occidentale. Si annuncia uno scontro di proporzioni mai viste. Le guerre puniche, dalla parola latina poenicus, fenicio, saranno tre e copriranno oltre un secolo di storia. La Sicilia è la guardiana dello stretto, su cui è affacciata dall'altro lato Cartagine. Lo stretto di Sicilia divide il Mediterraneo in due parti, simili per estensione, ma diverse per storia, geografia e tradizione. La Sicilia subiva già da molto tempo l'antagonismo tra le due civiltà marittime, greca e cartaginese, che dominavano rispettivamente il Mediterraneo occidentale e quello orientale. In questa terra contesa, le cui opportunità avevano già tentato l'ambizioso Pirro, si inseriscono nel 264 i Romani, occupando Messina, dove li ha chiamati un gruppo di mercenari e pirati, che volevano svincolarsi dalla protezione di Cartagine, i Mamertini. Una volta nell'isola, i Romani cominciano ad espandersi. La città greca di Acragas, cioè Agrigento, viene espugnata dopo un assedio nel 261. Nel 260 avviene una prima battaglia navale tra Romani e Cartaginesi alle isole Lipari. I Romani hanno la peggio, ma vincono una seconda battaglia all'arco di Milazzo, grazie alle innovazioni per consentire gli abbordaggi e far valere così la superiorità della loro fanteria. Dopo questo successo, i Romani si sentono abbastanza forti da sbarcare nel 256 un corpo di spedizione sulle coste africane. La spedizione, comandata da Attilio Regolo, non va a buon fine, ma due anni dopo i Romani strappano Panormo, cioè Palermo, ai cartaginesi. A capo delle forze cartaginesi è un comandante geniale, Amilcar e Barca. Egli costituisce due posizioni inespugnabili su due montagne, una presso Palermo, l'altra presso Drepano, Trapani. Da lì conduce anni di guerra terrestre e navale. Il costo del conflitto è altissimo. Roma ha fatto uno sforzo enorme per creare quasi dal nulla una flotta che potesse tenere testa ai cartaginesi. Nel 254, in soli tre mesi, arrivò a varare ben 220 navi, anche grazie alle immesse riserve di legname assicurate dalle foreste che ancora ricoprivano l'Italia. Ma dieci anni dopo, Roma ha già perso ben 700 navi dall'inizio del conflitto, mentre la Sicilia è devastata da questa guerra interminabile. Eppure Roma si batte contro una grande potenza e la guerra richiede ben altro. Cartagine sta preparando una grande flotta. La Repubblica, con uno sforzo logistico e finanziario inaudito, vara molte altre navi e sconfigge la flotta cartaginese a largo delle isole Egadi nel 241. In questa gigantesca battaglia vennero impiegate circa 550 navi. Il disastro porta al potere, a Cartagine, i fautori della pace. La Prima Guerra Punica si conclude dopo 24 anni con l'abbandono della Sicilia da parte dei cartaginesi, oltre a ingenti danni di guerra. Ma le conseguenze sono ben più gravi di così per Cartagine, che deve affrontare una rivolta delle proprie armate mercenarie, alle quali deve somme astronomiche. Questa guerra si protrarrà per qualche anno, e i Romani, approfittando delle difficoltà dei loro antagonisti, finiranno per prendersi anche la Sardegna e la Corsica, le principali fonti di legname per l'industria navale cartaginese. Intanto Amilcare si è recato in Spagna, con i resti del suo esercito, e ne ha iniziato la conquista. L'occupazione della Spagna prosegue per decenni. Amilcare cade dieci anni dopo in uno scontro con i locali. Ma la sua opera viene proseguita da altri membri della famiglia Barca. Nel 228 i cartaginesi hanno fondato una città che i Romani chiameranno Nova Carthago, la futura Cartagena, il fulcro per la conquista cartaginese della penisola. La Spagna fornisce ai cartaginesi una base per l'attività estrattiva, soprattutto dell'argento. La conquista riesce, anche se i Romani hanno vietato i cartaginesi di oltrepassare l'Ebro. La potenza cartaginese risorge, mentre Roma comincia ad espandersi nella pianura padana, scontrandosi però con la resistenza dei Galli che vi si sono ostanziati da tempo. Nel 219 il figlio di Amilcare, Annibale, espugna Sagunto, città nei pressi dell'Oderna Valencia, che ha mantenuto un rapporto preferenziale con Roma in una penisola già sotto l'egemonia cartaginese. Nell'aprile del 218 Annibale passa il fiume Ebro, e nel settembre dello stesso anno, dopo aver passato le Alpi, muovendosi tra popolazioni ostili e difficoltà quasi insormontabili, compare nella pianura padana con meno di 30.000 uomini. A dicembre vince una prima battaglia sul Ticino e prosegue verso Roma. Un mese dopo vince ancora sul fiume Trebbia. Nel giugno del 217 vince ancora sul lago Trasimeno. Sono battaglie sempre più importanti, vinte con idee geniali che tengono conto della psicologia del nemico. Annibale si avvicina, anche se la sua marcia è ritardata, dal generale romano Quinto Fabio Massimo, che evita altre battaglie campali e si avvale della sua superiore conoscenza del territorio per indebolire l'invasore. Ma altri a Roma pensano di poter invece schiacciare Annibale con la superiorità delle legioni. A Canne, in Apulia, nell'agosto del 216, la Repubblica mette in campo un esercito immenso. 86.000 uomini tra romani e i loro alleati. Ne nasce una delle battaglie più studiate e ammirate della storia. Annibale annienta l'esercito romano con una manovra tenaglia di mirabile intelligenza e audacia. È la più grande sconfitta che Roma abbia subito fino ad allora, e rimarrà la seconda più grave sconfitta in quindici secoli di storia. Dopo Canne, però, per motivi non chiari, Annibale, invece di avventarsi su Roma, costernata dall'enormità del disastro, si attarda a Capua, principale alleata dei Romani. Poi, muovendosi nel sud della penisola, Annibale cerca alleati tra i vecchi nemici della Repubblica, come la città greca di Taranto, che resterà sotto il suo controllo dal 213 al 209. Ma il progetto di sollevare le popolazioni dell'Italia contro Roma non decolla, né Annibale riceve aiuti da Cartagine, che pure avrebbe un'occasione irripetibile di vincere la guerra. In soccorso di Annibale si è mosso soltanto il suo fratello Asdrubale dalla Spagna, ma il suo esercito viene sconfitto dai Romani sul Metauro. Annibale riceverà soltanto il capo reciso del fratello. Intanto Roma ricostituisce faticosamente le sue legioni. Quinto Fabio Massimo e Marco Claudio Marcello, rispettivamente soprannominati lo Scudo e la Spada di Roma per la loro diversa indole, cominciano a braccare Annibale, che deve infine rifugiarsi nel Bruzio, l'attuale Calabria. È un vicolo cieco dal quale Annibale non potrà uscire senza una flotta. Intanto nel 211 Roma ha inviato un geniale comandante in Spagna, Publio Cornelio Scipione, che fin da giovanissimo si è battuto contro Annibale, salvando la vita al padre, che era stato il comandante delle forze romane battute sul Ticino. Le operazioni militari cominciano nel 210. Nel 209 Scipione conquista Nova Cartago, importantissima base operativa cartaginese, per via del suo ottimo porto e punto di raccordo tra Cartagine e la Spagna. Inoltre Nova Cartago è ricca di argento per via delle vicine miniere, e di deposito d'armi e di materiali. La città era ritenuta inespugnabile per le caratteristiche del territorio e per le sue mura. Nel 208 Scipione sconfigge le forze cartaginesi a Becula, e nel 206 nella decisiva battaglia di Ilipa. Mentre Annibale è intrappolato nel sud dell'Italia, la potenza cartaginese in Spagna viene letteralmente demolita da Scipione. Rientrato in Italia come console, Scipione propone di attaccare direttamente Cartagine, invece che perdere tempo a braccare Annibale. Allestisce una flotta e nel 204 sbarca infine in Africa, dove riceve l'aiuto del principe Numida Massinissa, che Scipione si era fatto amico mentre era impegnato in Spagna. Giungono però forze cartaginesi enormemente superiori e si accampano su due alture. Scipione negozia con loro e fa loro credere di essere sul punto di salpare e di allontanarsi. Invece riesce a far incendiare nottetempo gli accampamenti cartaginesi, dopo aver bloccato ogni via di fuga. I cartaginesi, che attribuiscono l'incendio a cause naturali, si precipitano fuori e vengono massacrati. A questo punto Cartagine riesce a fargli tornare Annibale e gli dà il comando dell'esercito. Ma è troppo tardi per evitare la catastrofe. Scipione devasta la valle di Bagrada, essenziale per i rifornimenti di Cartagine. Costringe così Annibale ad andargli incontro a Zama e lo vince nel 202 in una grande battaglia. La Seconda Guerra Punica si chiude per Cartagine con una nuova e più rovinosa di Spagna. L'ultimo atto del dramma di Cartagine ebbe luogo tra il 148 e il 146. Nonostante, dopo la Seconda Guerra Punica, la rivale di Roma fosse stata privata della flotta e di quasi tutti i suoi territori, inclusi quelli africani. Nonostante fosse stata privata delle sue riserve d'argento, condannata come era ad anni di guerra colossali da pagarsi durante cinquant'anni, le sue esportazioni agricole, soprattutto quelle di olio e di vino, disturbavano ancora i grandi proprietari terrieri che dominavano il Senato di Roma. Ne fu decisa la distruzione. Una guerra tra Cartagine e Massinissa, re della Numidia, servì di pretesto per una spedizione romana. La città si difese disperatamente dall'assedio, ma fu infine incendiata e rasa al suolo. Del sale fu sparso sulle sue rovine perché nulla più vi ricrescesse. Solo venticinque anni più tardi, Caio Gracco cominciò ad occuparsi della rifondazione della città, che, grazie alla sua posizione strategica sullo stretto di Sicilia e al suo entroterra agricolo, sarebbe cresciuta e diventata molto prospera e popolosa nei primi secoli dell'Impero. Ma la nuova Cartagine sarà una città romana che nulla aveva più a che fare con la grande metropoli dei Fenici. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima lezione ci inoltreremo nel Mediterraneo orientale, uno spazio molto diverso in termini economici, demografici e culturali rispetto al Mediterraneo occidentale. Per ora vi ringrazio per il vostro interesse. Arrivederci presto.